Gli swap stipulati dal comune di Teramo pesano come un macigno sui cittadini teramani, costretti dal 2006 a pagare ogni anno quasi 400.000 euro di interessi. La denuncia arriva dal PD, il quale evidenzia come sia impossibile rescindere i contratti a causa di un pagamento di 2 milioni di euro impossibile allo stato attuale da pagare per il comune di Teramo. Anche quest'anno nel bilancio si registra questo pesante macigno per il bilancio comunale, 400.000 euro, addirittura 30% in più rispetto a quello che abbiamo speso nell'ultimo esercizio finanziario. È assolutamente un macigno che pesa e peserà fino al 2025 perché questi swap sono stati contratti nel 2006 per 20 anni e quindi per 20 anni noi avremo comunque una situazione assolutamente aleatoria e incerta per il bilancio comunale che attualmente è negativa perché ripeto ogni anno spendiamo dai 300.000 ai 400.000 euro e soprattutto se noi volessimo uscire oggi da questi contratti dovremmo pagare circa 2 milioni di euro cosa assolutamente impensabile per la situazione attuale del bilancio comunale. Allora noi chiediamo, abbiamo chiesto già nella scorsa consigliatura e continuiamo a chiedere all'amministrazione di valutare effettivamente tutti gli strumenti per potersi liberare sostanzialmente da questi swap. Secondo il PD, gli swap stipulati nel 2006 erano in contrapposizione con quando dispone il testo unico sugli enti locali. Abbiamo una giurisprudenza amministrativa che dà delle chance, delle opportunità agli enti locali per annullare anche d'ufficio contratti swap che presentano degli aspetti di legittimità. Ad esempio c'è una sentenza del TAR Piemonte del 2013 che ha annullato, o meglio che ha dichiarato legittimo l'annullamento di contratti swap perché? Perché erano stati approvati non dal Consiglio ma dall'Aggiunta Comunale senza una gara. Ebbene i nostri swap si trovano in questa situazione perché sono stati contratti nel 2006 attraverso un atto autorizzatorio dell'Aggiunta Comunale e non del Consiglio, violando appunto la legge.